Molti monumenti, molte piazze, bella, chiese, bellissima. Abbiamo iniziato a vederla adesso, veramente molto bella, sì. Un bel sole bacia Arezzo per questi ultimi giorni dell'anno e dobbiamo riconoscere che effettivamente i numeri che ci sono stati raccontati dalle statistiche di un aumento di presenza turistica nella nostra città sono testimoniati proprio anche dalle nostre interviste. Adesso noi ci troviamo in Piazza Grande, una delle parti più belle del centro storico aretino e allora andiamo a sentire i turisti perché hanno scelto Arezzo e quanti giorni hanno deciso di trattenersi. Turista immagino? Sì. Viene da? Milano. Quanti giorni si trattiene? Tre giorni. Tre giorni. Per Capodanno sarò qua, è una bellissima città assolutamente da scoprire. Diciamo, rispetto alla stazione qua cambia totalmente, soprattutto questa piazza che è molto particolare, soprattutto per la sua inclinazione. Vi posso chiedere da dove arrivate? Da Fabriano. Quanto avete scelto di trattenervi ad Arezzo? No, noi siamo arrivati il 28 fino al 30. Ne pensate di Arezzo? È bellissima. È carina. È proprio bella. Abbiamo iniziato a vederla adesso, veramente molto bella. Veniamo da Parabiagon, provincia di Milano. Ecco, quanto vi trattenete? Ci siamo trattenuti tre giorni. È cambiata la percezione dei turisti allora nei confronti di Arezzo? Come leggete voi questo fenomeno? Sicuramente negli ultimi anni c'è stato un po' di cambiamento, anche perché sia noi operatori del settore che l'amministrazione pubblica hanno cominciato a vedere che il nuovo futuro per la nostra città è legato al turismo. E di conseguenza hanno cominciato un pochino a incrementare e a promuovere la città. Bisogna sicuramente fare tanto, infatti noi diciamo come categoria di albergatori è un po' di tempo che stiamo puntando i piedi anche col discorso poi dell'accettazione della tassa di soggiorno che questi soldi poi vengono riutilizzati veramente diciamo sul settore del turismo. Diciamo che Arezzo è aperta un po' alla tipologia di tutte queste attività. Sicuramente va individuato una certa nicchia di persone e cercare di investire in quel senso lì perché oggi ripeto lavoriamo con lo sport, quindi ci sono eventi sportivi, lavoriamo con le famiglie. In base diciamo alla tipologia dell'evento che viene proposto poi insomma ci atteguiamo ecco. Arezzo va bene per tutto l'anno? Arezzo va bene per tutto l'anno, anzi bisogna cercare di portare sempre più gente e ripeto qui rifaccio l'appello. Vediamo se tutti insieme con le amministrazioni, con la provincia, con la Camera di Commercio riusciamo seriamente a fare un tavolo e fare questa benedetta governance.